FIRIO! SONO TANANI! FIRIO! 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 PER CHIUDE! SINISTRO AL VOLO! DONANI! 2-1! MESSI A SPALLA VERTICALE! CIRU! 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 Tre mesi esatti dopo il successo sull'Atalanta che lo ha ribordato in Champions League, il Milan ricomincia, Vloria Milan chiude il programma della prima giornata di sello. Controllare la zona ma sboglia, allora Calabria passa, ne approfitta Calabria, zona cross, eccolo dentro! Il destro di Brahim Dias! Il Milan è avanti con Brahim Dias! Ma Tonani! Tonani! Il Milan è in vantaggio! Lui invece vuole il destro, calcia, deviazione! E il Milan torna in vantaggio! Brahim Dias da verificare! Brahim Dias accompagnato da quattro giocatori! CIRU! CIRU! La prima volta in rosso-nero! Per un'inizione! CIRU! È subito doppietta! Con la paglia del Milan! Il terreno di Hernández! Buona la giocata centrale di Leao! Che sale! Apre verso Rebic in aria! Scambiano! Leao! 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 E avanti il Milan! Il Milan! Al 45! Sinistra va le sole svelte a chiudere! Rebic in aria! Le pinte! Sinistro dentro per Ivra! Straca di Draimovic! Il Milan raddoppia! Questa volta per... Allo in seguito Hernández! Morata! Morata! Con lo scavetto! A battere! Meignac! Prima in destra! Di Tonani! Colpo di testa! Di Rebic! Che va uno a uno! Ancora! Un gol allo stadio! Per me! Nasserra! Col sinistro a cercare Fernandez! Si metto! Per la impianza! Il Milan in avvantaggio! Minuto 68! Splendissimo! Apri a sinistra! Dove arriva? Velocissimo! Fernandez! Per il 2 a 0 Milan! Incrocia il sinistro! Kalulu mette il traversone a cercare il colpo di testa! Di Daniel Maldini! Per la prima volta! In Serie A Team! Al terzo del secondo! Makhers in area di rigore passa! Sale Makhers! Prova a sterzare! Sale Makhers dentro! Brian Fias col destro! Milan ancora avanti! Brian Fias! Prima possibilità! Il pallone dentro! Calabria in area! Calabria con la punta! Ancora Calabria! E avanti il Milan! Dopo 29 secondi! Donali! Pressa! E ruba palla! Donali! Arriva in area! Calabria! 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 Il Milan è la doppia! Con Sanfio scoglie il contropiede! Teo Hernandez ancora la sposta! Leao! Leao! 3-0 Milan! Titoli di coda Il Milan sbancca per la seconda volta Di fila Dentro il pallone Cercare Kalinic Poi Miguel Veloso Spinge in area di rigore Caprani Va a balacca 2-0 Verona Kalinic Dubbia deviazione Poi Crosdeto Cercare Giroud Olivier Giroud La riaffro il Milan Fa che sì E scherza Montipò Ha pareggiato il Milan Sembra preparare il tiro Poi apre per Castiglieco In area di rigore Cros di Castiglieco Dentro Autogol Il Milan è avanti Autogol Dentro il pallone Per la velocità di Leao Che è scattato Entra in area Calcia col sinistro Il Milan è in vantaggio Dopo 16 minuti Insicuro Castiglieco potente col destro Arriva Calabria Col secondo gol in campionato Firma il 2-0 del Milan Il pallone è girato Dentro la Soriano In aria BALLO Cros Colpo di testa Mentre fuori Col sinistro Al volo Benazer Il suo spazio Disponizio La volta superata Nella prima linea Di pressione Ma largo Da Ibrahim Calcia Ibra Che chiude la partita E toglie Sua battuta Ballone in mezzo Colpo di testa Giroud Il Milan in vantaggio Al 14esimo minuto Mila sopra di 1 1-10 Ibrahimovic con la punizione Dal limite Alla colino Sua maestra Ibra Undicesimo gol in carriera Nella Roma Lui Patricio Il destro La firma Del presidente Secondo gol in campionato Il Milan per prendersi Il punto di vista più alto L'Inter per rimettersi Più che mai in gioco Per difendere Lo studente Facciala Nonu 1-0 Inter La sblocca Proprio lui L'ex Era andato vicino A segnare E questo per il secondo paro Colpo di testa 1-1 Il Milan la riprende subito L'urno di Vallautaro Tatarugiano La tiene Sui schia tre volte L'arbitro Doveri Finisce 1-1 Parata cercata Da Tatarugiano Che lascia lì Il pallone Lì lo lascia lì Per la perentina Allora Sapolara Che gol Vlaovic Il controllo di Vlaovic In aria Vlaovic Supera Tatarugiano Vlaovic Ibraimovic In aria Recupera Calcia Ibraimovic Che non perdona L'errore Passato E' il suo grusone Il cross dentro Per Ibraimovic Il Milan è ancora vivo Coppola Adessa che stenza In una zona pericolosissima La perde il Milan Vlaovic Titoli di coda La Fiorentina batte 4-3 Il Milan Impone La prima sconfitta In campionato I rossoneri Che cadono Dopo 17 gare Dai battuti scudi Cross Colpo di testa Nero Magnoli Il capitano del Milan A fare Olu Con Scamacca Che vede la porta Caccia fortissimo Che gol di Scamacca Che l'ha spaccata la porta Ma tutta di Berardi Palla che passa E rimane lì Conclusione Poi sulla deviazione Sontata Palla a palla per Berardi Non si fia di andare col destro Va sul vaccino Adesso sul destro Berardi Ancora per Berardi Ancora per il Milan Per la decima volta Cerca di metto in mezzo Palla sporcata Che si la gira E porta avanti Milan Al quinto minuto Il colpo Della Sinistro Gran tiro E crociato Dedica Sentita Per Beto contro Benjen Che chiude la porta Beto Seconda opportunità Palla sotto la traversa Il cross Del mucchio Ibra Prova a prendere posizione Ibra E ancora lui E ancora lui Il campionato con lo stesso passo Condiviso il primo posto Si giocano Uno scontro diretto Cruciale Per l'alta classifica È vietato fallire Alla scala del calcio Martezilinski Palla dentro 1-0 Lampoli Arrumato il tempo a tutti Difesa del Milan Assolutamente morbida In questa circostanza Buon Jesus Mischia che sì Pareggia il Milan C'è il VAR in corso VAR Gol Non convalidato Finisce qui Finisce Napoli che aggancia Il Milan in classifica Si prende il secondo posto Giroud Lascia lì Perché sì Che stavolta Ha coordinazione precisa È da tre quartista Ma con il passo relativo Sì però è pericoloso Venta in area di rigore Fa passare Il pallone Va Florenzi Calcia E trova l'angolo Florezzi Con Teo Hernandez Che butta giù la porta Si può andare Giroud Spiazza Rui Patrizio E porta avanti Milan Ibagnes Rischia Con questo retropassaggio Giroud Contisce il ballo La porta è portata In fila Giulio Messias Radon Cantina Ibrahimo Ibrahimo Vincenzo È riuscito a spottare All'interno Fa Raffaele Leao Per chiudere la partita E segna il 3 a 1 Raffaele Leao Leao Mette in porta Lui Teo Hernandez Alle spalle di Mazzocchi Buono lo strappo Teo Hernandez Vede la porta E buca sul primo palo Sergio Romero Teo Hernandez È tornato Parte Teo Hernandez Che incrocia La sfera Sergio Romero Doppieta per Teo Hernandez Ha tirato E allora occhio a Leao Dall'altra parte Leao 1-0 Milan Il gol di Leao E adesso le proteste Verde Occhio verde Cross in mezzo E arriva il pareggio Con Agudero Sturmato Messias Ritrave ha fermato Il gioco Però ancora Agudero Servire Kovalenko Palla verso Ciasi Ciasi Incredibile 2 a 1 Spezia 95 Finisce qui Milan e Juve Non si fanno Del male a San Siro E certificano La fuga dell'Inter A distanza Sorride Anche il Napoli Brilla il Meatta 24esima di Serie A Team C'è il derby Inter-Milan Protezione della potera di rigore La battuta con il destro La conclusione Benisic Per l'1-0 Inter Benisic Sedita per Tonani Tonani Riapre Prendias Palla sul destro Prendias Deviazione Per Pauro 1 Il tocco vincente di Giroud Il pareggio del Milan Si è girando Per verificare la posizione Con l'assistente Canabria Accompagna Prendiasi A spalla verticale Giroud 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 Incredibile In 3 minuti La cambia lui Giroud Sotto la curva Sul minuto Sotto la curva 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 Che piede di Magnana Per Leao Che sfonda Tutta da solo Leao Assista di Magnana Transforma Leao E poi la corsa Di Maio Sotto la curva Il po' Di colore Sotto la curva Di Messias Prendiasi Hapare il piatto E fate sempre Su il pezio Nella parte Diuric Ecez Vegnon E poi Frazzolino Besciotto D'Armen Meto la tiene A Porni Diuric In aria Fira Diuric Da una frustata Tremente A fallor Vedi Riou Tremente giù Punta La porta Rebic Rimane Inchiodato Sempre dopo 5 Hanno condiviso il primo posto a inizio campionato stasera una delle due potrebbe riprendersi Pappo Nani dopo il salterno di Ben Nasser palla in mezzo poi la coordinazione di Kessy Calabria brava deviazione una zero a Giroud Giroud ha toccato sul tiro di Calabria uno a zero Milan è arrivato titoli di coda ha vinto il Milan in corsa di Giroud sul muro palla fuori prova la conclusione col Mancino piazzato trova il vantaggio al Milan con Pier Canulu l'uomo che non ti ascolta esterno Messias per il Mancino ora in piessa al cross Giroud spalla la porta scarico per Ben Nasser costruzione perfetta del Milan e che gol di Ben il Bologna rallenta il Milan Rossoneri sempre primi ma adesso ha più uno su inizio zero a zero tra Torino e Milan un punto a testa per le due squadre che fa felice soprattutto l'Inter anche la battuta dietro a cercare il momento di Leo di Leo che fa una zero a Milan con la traiettoria incredibile Remic Remic in mezzo a cercare Ternes ancora Remic Messias il sabotaggio Messias per il 2 a 0 Milan Messias e prova a controllare va Miric con i Cavic i cross in mezzo la deviazione e arriva a curazione e arriva sempre lui per cercare Leao prova Leao Leao fino in fondo Leao la mette in mezzo e arriva Giroud per l'1-1 il pareggio del Milan si può vedere se le bankers la giocata dentro Cervi la tiene viva Ibra palla in mezzo Donavi 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 2 a 1 incredibile minuto la volta a due il vino passa con Donavi su una scantura di passione un lancio a Napoli che crolla definitivamente ai Castellani batte la rimessa per i sicci a Radu incredibile errore di Radu che approfitta il Bologna con Sanzone che forza dell'Inter di Simone Zaghi e rischia di costare tanto per la corsa Scudini Terracciano ha regalato palla Leao Leao ma con il destro e porta avanti il Milan all'ottantaduesimo minuto Raffa Leao scarta il regalo arriva a quota 10 in campionato rischio tre volte Paolo Valeri 1-0 per il Milan sulla Fiorentina Intero a meno 5 e San Siro fede i soldi accompagna il movimento il tocco potrebbe essere per lui il movimento è per lui l'Azovi fa la barbara in mezzo dopo l'interesse Leao per Zaghi c'è chiaro per i faravani Leao va fino in fondo Leao Leao la mette in mezzo a fare il Giambira Lanzano a Tonali deve andarlo a prendere Barak uno contro uno Leao con la sua velocità supersonica Leao Leao la mette in mezzo arriva con uno di Tonali doppietto di Tonali apre tocco di ritorno per lui Florenzi entra a benizio Florenzi 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 3 a 1 è la calciprozione dall'altra parte è andato Leao mette la testa prima con Meinerse Leao vantaggio del Milan al 57esimo si convince di andare ma Krunic lo ferma immediatamente Teo Hernandez prova a dare nuovi impulsi offensivi al Milan si è aperto una strada in mezzo al campo con Meinerse e a Monitio non può intervenire Hernandez costo coste Hernandez su un giro Ternandes cosa fa? da una parte all'altra nel campo per lanciare il Milan sul 2-0 sarebbe Muldur ma c'è il raddoppio di marcatura che va a buon fine importante il lavoro di Krunic che ha consentito a Leao di recuperare palla poi Leao non ha mai avuto grossi problemi di velocità Leao la mette in mezzo il piazzato di Giroud 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 fa una sera a Milan una sera a Milan l'uomo dei campi importanti l'uomo dei campi Ferrani Leao recupera il milionesimo pallone di questa inizio di gara ancora Leao fino in fondo la mette in mezzo Giroud 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 sempre la stessa cosa sempre la situazione con il sassuolo che va per l'ennesima volta in difficoltà con il pallone verso Leao lo mette dentro che sì 3-0 Milan 3-0 Milan terzo assist di Leao terzo pallone verso ma non mette il piazzato di Mignan 4-0 Milan 33 giorni dopo il Milan è campione d'Italia da questa rossomera Piazz Genova Piazzone 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 Grazie a tutti! Grazie a tutti!